Buongiorno e ben ritrovati con Mattino 6 Buongiorno e ben ritrovati con Mattino 6 Buongiorno e ben ritrovati con Mattino 6 In alto dei richiami alle questioni nazionali e non solo, parliamo della Catalogna, governo in manette, Catalogna arrestati otto ministri, Puigdemont sfugge alla cattura, è chiaro che la situazione si fa davvero molto tesa in Catalogna dopo il referendum e anche la reazione da parte del governo centrale di Madrid. Dall'altra parte è filmata la violenza e la paziente riprende lo stupro, ginecologo finisce in carcere. Ma torniamo alla regione Abruzzo, la foto notizia, la regione compra casa a 1600 sfollati, questa è una famiglia di sfollati, è il palazzetto dell'Acqua Viva a Teramo durante l'emergenza sisma, poi vedremo nella seconda parte di cosa si tratta, Entriamo più nel dettaglio. Sulla sinistra, sempre in Abruzzo a palto, carta delle valanghe, vince il docente senese, l'esperto Roberto Nevini nella foto. A Pescara sempre, Naya di scoppia la protesta di 200 famiglie. Dall'altra parte, nelle cronache, ovviamente questo è anche il giorno della sfida del Pescara, che gioca in anticipo questa sera alle ore 20.30 contro il Palermo, una delle principali candidate al salto di categoria. Pescara ospita la capolista. Zeman dice, siamo in crescita, conferenza stampa di ieri di Zeman, che poi nel corso della seconda parte riascolteremo nei tratti salienti. Roccaraso, storico risarcimento, la sentenza dopo 74 anni, strage nazista, Pietransieri, la Germania, paga 7 milioni. E poi sempre a Pescara, un fast food mediterraneo da Guerino a San Giovanni Teatino, aperto un conto per Deborah. Deborah Brandimarte, giovane donna di San Buceto, costretta da 7 anni a letto. Cambiamo edizione, andiamo su quella teatina a Chieti Lanciano Vasto, che ovviamente cambia il titolo, Ortaggi vicino ai siti contaminati. Chieti Scalo spuntano terreni coltivati tra le aree inquinate da sostanze tossiche. E poi nelle cronache, Vandali a Lanciano, imbrattano le aule, scuola chiusa per due giorni. E questo è il sopralluogo dei Carabinieri, proprio nella scuola imbrattata dai Vandali. A Rocca, Montepiano, ristorante a fuoco, una coppia, intossicata. A Basto, ecco due nuovi magistrati per il Tribunale. Cambiamo edizione, andiamo sull'edizione teramana. Corruzione con i test antidroga, che è stata un po' la notizia principale di ieri. A Giulianova, infermiere e automobilista indagati per avere scambiato le provette. E poi, per la politica, a Teramo, se la seduta sul bilancio salta il Consiglio, Brucchi adesso rischia grosso. A Tortoreto, Stolker pentito, dice, voglio andare in carcere. E poi a Martinsicuro sciopero alla Carbotec. E questa è una foto del sit-in dei lavoratori, proprio della Carbotec. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella aquilana. Eccola qua. Strage Limmari, paga la Germania. Massacro nazista a Roccaraso. Da risarcire eredi delle vittime, 5 milioni. E inoltre anche il Comune. Ed evidentemente il risarcimento per il Comune sarà di 2 milioni, perché abbiamo letto che il computo complessivo è di 7. Nelle cronache, l'Aquila, l'inchiesta proprio del quotidiano il centro. La rinascita di Sant'Elia passa attraverso lo sport. A D'Avezzano, dunque, ci spostiamo nella Marsica. Bimba ferita in classe da un chiodo alla scuola Montessori. A D'Acciano uccidono Cervo e Capriolo, denunciati in 3. E poi cambia questa parte della prima pagina, perché il risarcimento da parte della Germania è in apertura. E allora, visto che siamo nell'edizione della provincia dell'Aquila, 10 anni fa la scomparsa di Vito Taccone. Taccone è raccontato dal figlio Cristiano, Papà, il camoscio d'Abruzzo, un ciclista feroce e ribelle. Cambiamo quotidiano adesso. L'apertura è dedicata proprio al trasferimento del prefetto Provolo. Trasferito il prefetto di Rigopiano, Francesco Provolo, va a Roma a dirigere l'ufficio centrale ispettivo dei vigili del fuoco. Blitz dalla funzionaria che non capì l'emergenza. Relazione ai PM, matrone. È un atto vile. In alto, ad Albadriatica, Stolker chiede di essere arrestato. Così, dice, evito guai peggiore. A Lanciano, i vandali a scuola, corridoi e aule imbrattate con gli estintori. E poi a Giulianova, infermiere, ripuliva le provette degli automobilisti ubriachi. Di spalla, ristorazione, un'azienda smaschera. Le fake news. La cronaca a Sulmona, rave party abusivo, raffica di denunce. E poi a centro pagina, vediamo la notizia che riguarda la regione che compra 427 abitazioni per i terremotati. Si tratta di case invendute e mai occupate alloggi in 17 comuni e dunque vengono evitati i prefabbricati. Per lo sport, Pescara-Palermo in scena. Il big match, calcio di Serie B. Zeman stasera sfida la squadra di quella che ha definito casa sua, la sua città. Insomma, la moglie di Zeman è palermitana. I figli sono nati a Palermo. Lui si sente in parte, oltre che Boemo, è anche un filo pescarese, anche palermitano. All'Aquila, affitta all'esquillo e finisce sotto accusa. Questa è la prima pagina del messaggero, ovviamente edizione abruzzese. Adesso andiamo più propriamente nella provincia di Teramo per vedere la prima pagina del quotidiano. La città ripuliva i prelievi dei test antidroga. Infermiere indagato per corruzione. ha preso 200 euro per scambiare la provetta di un'automobilista. In alto per la politica, Teramo città in ostaggio dei dissidenti di Brucchi. Salta il consiglio comunale sul bilancio. E poi la guerra invece del teatro comunale. Il Tar sposta l'ago della bilancia verso la CS. A centropagina, la fotonotizia, un maxi impianto per rifiuti organici a Mosciano. Produrrà biometano proprio di fronte al Cirsu. Di spalla, terremoto, la regione compra 420 alloggi per le famiglie sfollate. 327 a Teramo. Poi a Martinsicuro, ti taglio la testa, condannato un marito violento. E poi, innamorato pazzo, si fa arrestare. Sempre cronaca. Stalker viola il divieto del giudice e si consegna ai carabinieri. Per lo sport, invece, parliamo di basket. Ieri sera è il posticipo del campionato di Serie B con il derby tra Teramo e l'amatori Pescara. Non c'è stata storia al Palas Capriano. Ha vinto l'amatori Pescara 58 a 76. Dunque, stop per la squadra di coach Bianchi. Vince la squadra di un altro coach, invece, emergente, come Raiola, ex, peraltro, della gara. Adesso andiamo, chiuse le prime pagine dei quotidiani regionali, andiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, aprendo con il Corriere della Sera. Con l'apertura, il titolo che è di fatto a centro pagina, ed è riguardo alle pensioni, un errore, il rinvio. Il ministro Calenda che dice, così, il PD mette a rischio i conti. Il caso, innalzamento a 67 anni. Leggiamo più da vicino, possibili le esenzioni per i lavoratori più gravosi. E parte, ovviamente, la trattativa con i sindacati. Un caso, comunque, sempre molto spinoso, quello delle pensioni. In alto, invece, per la politica internazionale, si torna, ovviamente, sulla Catalogna, perché Madrid non cede. In carcere vanno nove leader catalani e Puigemont è ancora in Belgio. Dunque, davvero un pugno duro, leggiamo, della magistratura spagnola nei confronti degli indipendentisti catalani, perché il giudice dell'udienza nazionale, Carmen Lamella, ha disposto all'arresto per otto ex consiglieri della Generalitat e per l'ex vicepresidente Oriol Junqueras, tutti rimasti in silenzio davanti al tribunale. Insomma, una situazione sempre davvero più complicata, quella che si va delineando in Spagna. Ma c'è anche il caso intercettazioni, con cui apre invece la Repubblica, intercettazioni sia alla stretta, usare solo quelle essenziali. Il PM di Matteo, che dice, riforma pericolosa, pensioni, Padoan, Blinda, i 67 anni. In alto, il pugno di ferro di Madrid. In carcere otto ministri, Barcellona si ribella, migliaia in piazza. Il pugno di ferro, Puigemont da Bruxelles, governo legittimo imprigionato per le sue idee. E questa è una manifestazione che c'è stata proprio a Barcellona, ovviamente degli indipendentisti catalani. Cambiamo giornale, andiamo sul messaggero, ma edizione nazionale, si torna sulle pensioni, qui, pensioni, ecco chi evita i 67 anni. Il governo ha i sindacati, tavolo per definire i lavori gravosi, per i quali non scatterà l'aumento di età. Il presidente del Consiglio Gentiloni, nessun rinvio del decreto, dalle maestre e camionisti, la platea di chi potrà salvarsi. In alto, per lo stadio olimpico, dopo il caso Anna Frank, Lotito apre di nuovo la Sud per permettere ai tifosi della Curva Nord, che storicamente è il posto deputato ai tifosi della Lazio, di poter assistere alla gara dei Bianco Celesti. Ma a proposito di Lazio, ieri sera la Lazio ha giocato in Europa League, la Lazio batte il Nizza 1-0, gol nel finale di Marco Parolo, primato e qualificazione con due turni di anticipo al turno successivo. Sul caso intercettazioni, i dubbi di ANM e penalisti, intercettazioni varata alla riforma, Gentiloni dice che è stato limitato solo l'abuso. E poi bufera degli impresentabili nelle liste grilline di Maio, lo sfide in TV, Renzi accetta in Sicilia, aria di fuga PD verso il Movimento 5 Stelle. Pugno di Madrid, a centropagina, retata di ministri catalani, otto arresti, chiesto il carcere, anche per Puigmond, rifugiato in Belgio. Salta il tappo libico, migliaia di migranti sulla rotta per l'Italia, ripresi gli sconti tra milizie, Tripoli non è più in grado di controllare i flussi, che evidentemente dunque si indirizzano verso il nostro paese. Il Fatto Quotidiano, questa esclusiva, un'intercettazione su Consip, in guaia, ancora Papa Renzi, Romeo discute con Russo, il galoppino del Babbo, del Barettino, possibile luogo del vertice, con Tiziano. e poi il DL Orlando, più segreti, meno notizie, arriva il Bavaglio, targato PD Alfano, ecco quello che non sapremo più, con la stretta sulle intercettazioni. A centropagina, Spagna, gran rettata di ministri, catalani, in galera per sedizione, tutti dentro, dal vicepresidente della Generalitat, al presidente del Parlamento. Andiamo sul tempo, quotidiano capitolino, quotidiano loro umano, che dunque apre con questa indiscrezione, perché lo stadio della Roma potrebbe essere a rischio. Pronto un nuovo vincolo sul diritto d'autore, dell'architetto, dell'ex ipodromo, e l'ultima follia dopo i ricorsi e i contro ricorsi, che hanno già bloccato l'inizio dei lavori. a centropagina, questa Lazio non finisce mai, batte in extremis anche il Nizia, e passa come prima, ai sedicesimi di finale. In basso, parla la vitola, CAV condanna ingiusta, e su fini, ora mi pento, dopo la sentenza sulla compravendita dei senatori, alluvione ai soldi non spesi, inchiesta sulla regione, la Corte dei Conti indaga, sui fondi non utilizzati. E poi in basso, una notizia, se vogliamo particolare, perché Benevento, quotazione record negativa, il successo a Torino, del fanalino di coda della Serie A, il Benevento, che non ha ancora messo insieme nessun punto, è pagato 35 volte la puntata, ed è la quotazione più grande che ci sia mai stata, nelle scommesse sportive, insomma, per chi si intende di un po' di scommesse sportive, ecco, la quotazione più alta per una gara, insomma, dove ci sono due squadre, diciamo, della stessa serie. Cambiamo giornale, andiamo a Libero, anziché in galera, mandano a scuola, Fior di Farabutti, succede anche questo, scrive il quotidiano di Vittorio Feltri, dei corsi di rieducazione e deradicalizzazione al posto del carcere per i sospettati di terrorismo islamico. E sulle intercettazioni c'è il fondo di Filippo Facci, sempre molto pungente, fatta la legge, troveranno l'inganno. E poi per la politica, ora Di Maio fa il chierichetto e i Vescovi lo benedicono. A centropagina, l'Europa perseguita la democrazia, arrestati i leader della Catalogna, e poi il governo taglia i soldi alle regioni che hanno votato per l'autonomia. L'apertura è dedicata alle intercettazioni, la stretta non c'è, salta l'udienza filtro sulla rilevanza, decide il Pubblico Ministero, esteso l'uso dei virus spia. Il governo varra la riforma, Gentiloni puniti gli abusi, salvo il diritto di cronaca, ma ovviamente non può non esserci polemica. Pensione a 67 anni, il governo tiene duro, si adderoghe per i lavori usuranti, il vertice a Palazzo Chigi con i sindacati, e poi l'analisi di Oscar Giannino, le ragioni del paese contro quelle delle urne. Andiamo sulla stampa, invece ci spostiamo in Piemonte, più prettamente a Torino, Piazza San Carlo, l'atto di accusa dei PM a Torino, pronti gli avvisi di garanzia contro i vertici cittadini, rischiano fino a 12 anni, ricorderete la tragedia sfiorata durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, in Piazza San Carlo, insomma ci fu un attimo di panico collettivo con la paura di un attentato, dopo cinque mesi sono una ventina gli indagati. Poi per la politica polemica Renzi Di Maio, duello in tv sulle fake news, martedì prossimo il confronto tra quelli che sono i due candidati premier, Matteo Renzi per il Partito Democratico, Luigi Di Maio per il Movimento 5 Stelle, l'ordine di Madrid nella parte centrale della prima pagina, in manette il governo catalano, il presidente Puigdemont resta in esilio in Belgio, ma potrebbe costituirsi nelle prossime ore, vedremo poi se effettivamente lo farà. Il sole 24 ore, l'Euribor antiabusi passa al test di mercato, la Gran Bretagna alza i tassi, Powell alla Fed per la giustizia e intercettazioni, vietate le trascrizioni che siano irrilevanti, e poi per le imprese degli Stati Uniti, imprese usa tasse dal 35 al 20%, meno sconti per i contribuenti, questa è la rivoluzione fiscale del presidente Donald Trump. Cambiamo giornale, andiamo su Il Giornale, il PD fa pagare le tasse ai terremotati sfollati, sinistra senza pietà, la commissaria scrive ai comuni dal 16 dicembre dovete tornare a pagare e chi non ce la fa si indebiti con multe dei paschi. Di spalla dalla Sicilia riparte il centro-destra unito, di nome e di fatto incontro Berlusconi, Salvini e Meloni, sapete che tra poco ci saranno le elezioni proprio in Sicilia. Limiti alle intercettazioni, c'è la legge ma è una farsa, tempi lunghi e norme anacquate. Mussolini raccontato da Vespa, così conquistò gli italiani. Cambiamo giornale, andiamo sul manifesto che come al solito con un fantastico gioco di parole descrive perfettamente quella che è la situazione adesso in Spagna, in Catalogna, ma che il manifesto definisce Catagonia. Mano durissima di Madrid contro il governo catalano ribelle, l'ex vicepresidente Junqueras e sette ex ministri finiscono in carcere per Puigemonte, quattro ex consellers fuggiti a Bruxelles. in arrivo il mandato di arresto europeo e chi è stato arrestato dice siamo prigionieri politici. In basso, pensioni, il governo aumenta a 67 anni senza l'invii e ai sindacati offre un tavolo blef per i ritocchi. Per la giustizia, intercettazioni, cambiano le regole, ma non sarà quella rivoluzione che era annunciata. Il secolo XIX, Catalogna governo in carcere, Puigemonte resta in Belgio, combatteremo sì, ma senza violenza. A centropagina, in pensione a 67 anni, no del governo al rinvio, apertura solo sui lavori più gravosi e nel Partito Democratico ci sono dei malumori. Intanto duello martedì 7 novembre tra Renzi e Di Maio. l'avvenire arresti alla Catalana, vengono definiti dal quotidiano. In cella il governo destituito, migliaia in piazza, il presidente Puigemonte rimane a Bruxelles. Ordinata la detenzione per otto membri dell'esecutivo, tempi lunghi per l'estradizione dal Belgio. Più lontana l'ipotesi invece di una mediazione per le intercettazioni. Stop agli abusi, ma non all'uso. Il governo vada alla riforma, sarà vietata la diffusione. Il secolo d'Italia, Movimento 5 Stelle, impresentabili dalla Sicilia, senza mezzi termini, come sempre Giorgia Meloni contro i 5 Stelle. Ma vi rendete conto a che livello di impresentabilità siamo arrivati? Questo ha detto Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. In primo piano Renzi è proprio disperato, vuole arruolare anche Alfano per la politica internazionale. Puigemonte fa il latitante e non si presenta dai giudici. scrivono Dux su un muro, Bologna nei guai. Due anziani sulla sessantina, entrambi escono a notte fonda, tra le 4 e le 5, per le vie del centro storico, carichi di sacchetti pieni di pennarelli. Sono mussoliani convinti. Insomma, una sessantina di anni suonati. Insomma, è anche complicato uscire così tardi la notte, soprattutto perché non fa proprio esattamente caldo. Chiudiamo con la verità. Banch'Italia confessa se c'ero dormivo lo scandalo degli ispettori assunti nella banda del crack. Ascoltato dalla commissione di Casini, il capo della vigilanza di Palazzo Coc è costretto a confermare le porte girevoli con Pop Vicenza denunciate dalla verità. Si giustifica così? Tutto vero, ma non li abbiamo incoraggiati. E ci mancherebbe, scrive il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. Ci scanniamo sulle pensioni. Trump invece abbatte le tasse negli Stati Uniti. Il governo tratta sull'aumento dell'età del riposo pensando al voto. Intanto, i repubblicani presentano una gigantesca riforma fiscale. E poi, una fotonotizia, oh che bel castello, sembra dei zonin come quelli sotto, ma lo usano solo per attirare clienti nei loro hotel in Scozia. Questo è il castello che reclamizza il wine house dei zonin a Edimburgo. Insomma, hanno trovato anche questo escamotage. E poi, in basso, il Vaticano di Bergoglio, sembra la Rai di Renzi, chi non riga dritto viene epurato esattamente come accade in Viale Mazzini. Vediamo adesso i quotidiani sportivi partendo dalla Gazzetta dello Sport perché Montella è rimandato, assisto da tempo al mio funerale, resta sul filo, Europa League, IK Atene-Milan 0-0, qualificazione per i rossoneri che è rinviata, niente gol neanche ad Atene, pari che permette di mantenere il primato, ma il gioco non si vede. Troppo poco il pallo di Montolivo e il tecnico litiga anche con uno spettatore, ma niente rispetto a quello che ha fatto Patrice Evra, ex giocatore della Juve, Evra all'accantonà, calcio al volto ad un suo tifoso che lo stava contestando durante il riscaldamento prima della partita di Europa League dell'Olympique Marsiglia. In alto, Juve, il ritorno del nuovo Piazza, è da vice Higuain, il croato gioca 50 minuti in amichevole, spunti e doppietta, e Allegri lo vede alla pipita. Napoli, Gullam, oggi si opera, allarme crociati, stagione a rischio per il terzino algerino, in Serie A e il settimo a finire sotto i ferri per il ginocchio. E poi, Lazio da record, nuove vittorie di fila, entra nella storia e passa come prima. Incredibile, l'Ortito ci riprova, la Sud è riaperta di nuovo agli ultra. Ieri ha giocato anche l'Atalanta, la Beffa arriva al 94esimo in casa dell'Apollon-Limasol. Il Corriere dello Sport, la foto principale dedicata al Milan, con questo gioco di parole, che diavolo sei? Europa League, Milan senza Lampi, 0-0 ad Atene, Montella resta in bilico, Lazio già promossa, 1-0 al Nizza. In alto, il Napoli si getta su Versalico, lesione al crociato per Gullam, De Laurentiis va a cercare, proverà a cercare il sostituto, il croato dell'Atletico, potrebbe arrivare a gennaio, Grimaldo è la prima alternativa proprio a Fosì-Gullam. E in Serie B, l'anticipo, lo vediamo, Zeman Tedino, è un anticipo di lusso, alle Adriatico 20-30, è sfida tra Pescara e Palermo. Chiudiamo con Tutto Sport, apertura dedicata al forum con il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausiglio, che ha definito Spalletti, il tesoro dell'Inter. In alto, invece, dentro il mistero, Alexandro, Juve, un asso da ritrovare, Piccolo Milan, invece, Montella, Trema. È tutto per questa prima parte, di mattino 6, noi ci fermiamo adesso, spazio alle previsioni meteo, poi alla pubblicità, rientreremo tra poco, tra qualche minuto, per sfogliare le pagine dei quotidiani di casa nostra, tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di mattino 6, adesso siamo pronti per entrare all'interno dei quotidiani, e vedete la notizia con cui si apre il primo piano del centro, è quella che riguarda l'emergenza sisma, ma anche la volontà, evidentemente, di dare una soluzione, seppur parziale, perché la regione acquista le case a 1.600 sfollati, alloggi nuovi e invenduti in 17 comuni, accoglieranno le famiglie del cratere, costo di 68 milioni, il piano aiuta anche i costruttori, graduatorie che sono pronte, e peraltro ci sono anche, è a cavallo tra le due pagine, ma ci sarebbe anche la cartina, per individuare quanti e dove si trovano questi alloggi, e lo vediamo forse meglio su quest'altra pagina, anche se non è proprio completa, però, insomma, 223 a Teramo, vediamo i numeri più alti, 15 a Santomero, 11 a Castellalto, 12 ad Atri, 11 a Montorio e Alvomano, insomma, queste sono le principali, anche due in provincia di Pescara a Pianella, questi sono comuni interni al cratere, e invece i comuni esterni al cratere, fatti di colorazioni ovviamente differenti. Altra notizia, le Coop Emiliane sfidano Maltauro, un nuovo progetto per il Policlinico, cooperazione da 40 milioni a Chieti, ecco la lettera, e poi potete vedere anche la lettera che era indirizzata alla direzione generale della Asle 2 di Chieti e Lanciano Vasto. La notizia degli alloggi comprati dalla Regione, la ritroviamo anche sul Messaggero, i problemi del post-sisma, la Regione compra 427 abitazioni per i terremotati, agli sfollati destinate case private invendute, mai occupate prima, l'investimento di 68 milioni a carico della protezione civile, leggiamo anche la maggior parte degli edifici, ovviamente nelle zone più colpite, all'Aquila e a Teramo, alleggeriranno la situazione dei 5 mila evacuati dopo il sisma. In basso, la risposta dell'opposizione per Mauro Febbo, per D'Alfonso, la sfida è vinta, dice, ma la verità sulle opere è ben diversa, molti interventi avviati dal centro-destra, su altri non c'è la certezza invece della realizzazione. Torniamo sul centro per l'altra notizia, ovvero il prefetto Provolo che va via da Pescara. Ovviamente è stato il prefetto della tragedia di Rigopiano, andrà a Roma a Provolo per dirigere l'ufficio ispettivo dei Vigili del Fuoco, al suo posto Basilicata, la Lady di Ferro della lotta ai Casalesi. Dunque, come possiamo leggere, il cambio della guardia alla prefettura di Pescara va via Francesco Provolo, arrivato a Pescara a gennaio del 2016, arriva a Gerardina Basilicata, 62 anni, originaria di Santa Maria Vico, in provincia di Caserta, ed ecco perché ha avuto a che fare con la questione dei Casalesi. La reazione di Matrone, sopravvissuto proprio alla tragedia di Rigopiano, che dice ci manca solo che mi denuncino. La reazione del sopravvissuto alla nota inviata in procura. Andiamo avanti, giornata della cittadinanza. Ius Soli, il Sì di Guardia Grele, da noi un segno di civiltà. Oggi festa nella scuola con le testimonianze di 100 bambini nati nel borgo. il sindaco Dal Pozzo. Ragazzi pienamente integrati nella nostra comunità. Saltiamo le questioni che riguardano il carattere nazionale e non solo, perché l'abbiamo letto dai quotidiani nazionali, per andare a Pescara, la nuova gestione, un fast food mediterraneo e la nuova vita di Guerino. l'amministratore della GM, accordo vicinissimo con un pastificio. Dall'altra parte, misericordia, cerimonia e turbolenta festa finale, processione messa al Sacro Cuore per la vestizione dei nuovi volontari, momenti di concitazione durante il pranzo per le intemperanze di un ospite. in basso, vigili urbani, il TAR annulla il regolamento, accolto il ricorso dei lavoratori, i giudici, la giunta comunale non può decidere sull'organizzazione. E poi, tragedia in Via Tavo, dunque siamo alla cronaca, cade dal quinto piano, muore a 43 anni, un uomo di 44, qui però c'è scritto di Pescara, è caduto dal quinto piano della palazzina, dove fino a qualche mese fa ha vissuto con la madre deceduta di recente. Cambiamo pagina, l'enaia di Lalite, infinita, ingresso vietato in piscina, pronti a scendere in strada, 200 famiglie sul piede di guerra, stamane, l'incontro con Del Vecchio. In basso, invece, un notaio selezionato dalla NASA, il nome di D'Ambrosio, finirà su una targa speciale, che sarà, niente meno, che è depositata su Marte. E questa è la foto del notaio Massimo D'Ambrosio. Dall'altra parte, ovviamente, si torna sulla questione l'enaia di le reazioni, i gestori dell'impianto, i vertici di Progetto Sport. Facciamo entrare tutti, dura replica, dell'amministratore unico, Serraiocco. Stiamo accogliendo i ragazzi come privati cittadini, nonostante le inadempienze contrattuali del club acquatico. E poi l'iniziativa del comune, barriere anti-disabili. Gli alunni denunciano gli ostacoli sulle strade, con le macchinette fotografiche e i blocchetti per gli appunti, stanno perlustrando la città con le associazioni sportive. A Montesilvano, Nuova Pescara, il dibattito, Sospiri scrive a D'Alfonso procedura illegittima. Il capogruppo regionale di Forza Italia contesta al governatore il mancato coinvolgimento dei tre consigli comunali nell'iter di approvazione della legge. Questa dovrebbe essere insomma la grande città che comprende ovviamente Pescara ma anche Montesilvano e Spoltore. E poi sempre a Montesilvano giovedì concerto all'Einstein di tre allievi della scuola civica Gemellaggio appunto con Montesilvano. In basso i giovani che vanno a lezione di protezione civile Spoltore mini corso del Modavi per far scoprire a 30 ragazzi dai 6 a 20 anni il mondo dei volontari. Ed è giusto così. Ex a Montesilvano ex ristorante di scarica nel cuore di via Maresca nella strada dei grandi alberghi al centro di un piano di riqualificazione turistica programmata dal comune lo scandalo di un locale chiuso da circa 10 anni. Di spalla Spoltore due arresti e una denuncia per spaccio. In basso a Spoltore tavola dei morti in 200 a Rito Spoltore mito e tradizione locali e evocati a Borgo case troiano nella notte di ogni santi. A San Giovanni Tiatino bloccate 500 tonnellate di biocombustibili il reparto volo della finanza sequestra un sito industriale che protugge pellette e tronchetti trovate tracce di metalli pesanti nella segatura che poi ovviamente con la combustione andrebbero evidentemente nell'aria. di spalla politiche per i giovani con officine mobili siamo a Francavilla al mare e poi invece una cosa molto importante aperto il conto corrente di Debora al via una sottoscrizione per le cure alla giovane donna immobilizzata a letto iniziativa questa che leggiamo promossa dall'associazione cuore nazionale e abruzzo con il patrocinio del comune iniziativa di crowfunding si è svolta alla presenza del sindaco Luciano Marinucci del vice insomma dell'amministrazione comunale di San Giovanni Teatino andiamo nell'area vestina perché Penne chiede aiuto per ristrutturare i palazzi lesionati escluso dal catere sismico e dalla zona franca fiscale il comune vuole essere inserito nel programma Casa Italia e nella foto vedete il primo cittadino di Penne Mario Semproni a centropagina Penne stadio comunale verso l'agibilità completa l'impianto ha superato tutti i test via libera della commissione tecnica per il 5 novembre lo stadio comunale che è quello che si trova in via Campetto dunque in una zona un po' periferica rispetto al centro città ma è quello dove normalmente negli ultimi anni si era trasferito il Penne prima di cambiare siccome dopo c'è la pagina di Chieti finiamo Pescara e provincia sul messaggero e poi ovviamente cambieremo insieme la provincia a Pescara palazzi più belli con le nuove regole Marco Sciarra soddisfatto del su decreto sviluppo ed NTA ha accolte le proposte del Lance per migliorare il costruito procedere con demolizione e ricostruzione ci consentirà di realizzare edifici di qualità e riqualificare zone urbane comune più parcheggi per i disabili in quella che viene definita evidentemente una città ad ostacoli in basso Guerino e Megà svolta per la gestione un marchio italiano della pasta interessato allo stabilimento mentre la discoteca sarà venduta e poi il TAR che bocce il regolamento dei vigili che viene definita una tegola sul comune di Pescara perché il TAR Abruzzo ha annullato la deriva della giunta comunale sul regolamento di riorganizzazione e disciplina della polizia municipale e poi si ritorna sulla questione del trasferimento del prefetto di Rigopiano Francesco Provolo che va all'ufficio centrale ispettivo di Roma nel dipartimento dei vigili del fuoco soccorso e difesa civile lo spostamento arriva a nove mesi dalla tragedia del resort dalla capitale arriva a giardina basilicata di grande esperienza e abbiamo visto anche in quelle che è stata la sua carriera il sopravvissuto matrone denunciarmi sarebbe solo un atto vile incredulo il pasticcere segnalato alla procura per il blitz in prefettura cambiamo pagina Pescara metropolitana Florian una stagione all'avanguardia oggi e domani in scena Dionisio e Penteo per la rassegna dedicata al teatro d'autore direzione artistica di Giulia Basel e poi la campionessa Alessia Iezzi e ora metto nel mirino le olimpiadi dopo il trionfo in Coppa del Mondo di tiro a volo in India l'atleta di Manoppello punta a Tokyo 2020 adesso cambiamo provincia andiamo all'Aquila scuole fondi personale la ricostruzione è un bivio al Senato in discussione due norme centrali per l'emergenza post terremoto emendamenti per velocizzare gli iter e stabilizzare i precari del settore crisi degli spazi cialente Battistelli dice fa solo Caciara centro pagina piano neve e strade ci saranno nuove assunzioni in basso casa d'appuntamenti alla villa comunale finisce sotto accusa anche la proprietaria invece il processo perseguita e molesta l'ex moglie una sessantenne finisce un sessantenne perdono finisce a giudizio per le case sempre all'Aquila nuovo bando più punti agli aquilani l'assessore Bignotti illustra i criteri del provvedimento premialità anche per gli stranieri in base agli anni di residenza in arrivo avvisi ad hoc per i giovani forze armate studenti le piastre di Assergie Camarda al futuro liceo sport invernali alloggi popolari un piano alternativo che è quello a San Gregorio cambiamo adesso giornale andiamo a Chieti paura a Rocca Montepiano ristorante in fiamme coppia intossicata rogo a Villa Corsi per il malfunzionamento di un frigorifero parte la campagna di solidarietà per sostenere i proprietari a Lanciano scuola imbrattata dai vandali bimbi a casa la scuola sarà inagibile per atti vandalici 126 alunni sono stati rimandati a casa a centropagina ortaggi coltivati vicino ai siti contaminati a Chieti Scalo spuntano le coltivazioni agricole a un passo dalle aree inquinate da sostanze tossiche evidentemente non proprio salutare a Teramo corruzione a Giulianova scambi di provette per i test antidroga l'infermiere del pronto soccorso sostituiva campioni di sangue e gli automobilisti fermati ai controlli facendosi pagare e la ASL ovviamente lo sospende e rischia anche il licenziamento dopo il provvedimento leggiamo di sospensione e rischia anche il licenziamento per giusta causa l'infermiere coinvolto nell'inchiesta sullo scambio delle provette lo anticipa in una nota la ASL di Teramo che dice la direzione sta predisponendo gli atti di sospensione del servizio e anche soprattutto a tutela della salvaguardia della salute degli utenti dell'unità operativa coinvolta si ribadisce che qualora i fatti corrispondessero al vero il direttore generale ritiene di prendere in considerazione il licenziamento per giusta causa essendo venuto meno il rapporto di fiducia tra azienda e dipendente ovviamente e allora andiamoci a vedere il servizio che parla proprio di questa vicenda firmato per noi da Paolo Rezzetti sostituiva le provette di sangue di automobilisti trovati alla guida sotto l'effetto di droga responsabile un infermiere cinquantenne in servizio all'ospedale di Giulianova indagato dagli agenti del distaccamento di polizia stradale di Giulianova nell'ambito dell'operazione Blood Exchange l'uomo che deve rispondere di corruzione favoreggiamento e falsità ideologica dietro la consegna di denaro scambiava e ripuliva le provette di sangue di automobilisti sorpresi alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sostituendole con provette di sangue pulito indagato con l'accusa di corruzione anche un automobilista coinvolto nello scambio all'infermiere è stato imposto l'obbligo di dimora presso il comune di Mociano Sant'Angelo il divieto di lasciare il suo domicilio dalle 18 alle 7 di mattina e l'obbligo di firma presso la stazione dei Carabinieri al mattino e al pomeriggio per l'automobilista l'autorità giudiziaria ha imposto invece l'obbligo di dimora presso il comune di residenza di Giulianova le misure sono state messe dal GIP del Tribunale di Teramo Giovanni Derenzis su richiesta dell'EPM Davide Rosati le indagini non sono però concluse visto che ci sarebbero sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti altri episodi sospetti che sono in corso di approfondimento un'indagine molto seria che va inquadrata come dicevo in un contesto più ampio in un contesto più ampio perché la polizia stradale da anni che cerca di rendere più sicura la circolazione e soprattutto dare una possibilità agli utenti che venga garantita la circolazione nella maniera più lineare e sicura possibile questa è una operazione credo che sia proprio la prima in Italia la prima in Italia che ha fatto emergere lo ha detto anche il signor procuratore dei dati assurdi è la prima volta che c'è questa situazione chiamiamola truffaldina di scambio di provette di sangue in un ospedale persone che risultavano positive su strada alla prova al prelievo ematico in realtà le provette poi quando venivano esaminate davano esito negativo come siete arrivati ad individuare questa infermiera? ma attraverso innanzitutto delle conoscenze delle persone che si sapeva essere dei tossicodipendenti venivano fermati puntualmente e puntualmente venivano poi fatti tutti i prelievi e su strada e poi come campioni ematici ma come ho detto la situazione strana è che questi campioni ematici poi risultavano negativi e quindi veniva panificato tutto il lavoro degli operatori Comandante tra l'altro ricordiamo che guidare sotto l'effetto di alcol e soprattutto droghe è pericolosissimo ma guardi più che pericolosissimo è quello che noi dobbiamo assolutamente stroncare con un lavoro sinergico di tutte le forze di polizia a prescindere dalla polizia stradale la polizia in generale l'arma dei carabinieri dobbiamo anche essere aiutati dalle istituzioni e dalle organizzazioni locali storia questa che ritroviamo anche sulle colonne della città ovviamente quotidiano della provincia di Teramo infermiere ripuliva i test antidroga a pagamento scambio di sangue davvero una storia incredibile per 200 euro ha consentito a un automobilista di salvare patente portafogli e fedina penale ma in basso direi anche abbastanza logicamente è arrivata anche la risposta dell'ipasvi perché gli infermieri si definiscono parte lesa in questa storia cioè il collegio Teramano prende posizione sul collega foggiano indagato che ovviamente leggiamo in qualità di ordine rappresentativo della professione si ritiene parte lesa per l'operato illecito contestato al professionista sanitario di Giulianova una storia questa che insomma la ASL ci sono state le reazioni immediate la ASL attiva il procedimento disciplinare per licenziare l'infermiere cosa che insomma abbiamo visto ma era abbastanza inevitabile che accadesse torniamo adesso sul messaggero per vedere come invece torniamo sulla cronaca di Chieti stop ai furbetti dei rifiuti scattano controlli e multe differenziata giro di vite del comune sul conferimento errato della spazzatura lotta anche all'abbandono indiscriminato in 60 sanzionati segnalazioni per 180 incendio poi la paura Villa Corsi i proprietari finiscono in ospedale fiamme e paura al noto ristorante Villa Corsi di Rocca Montepiano i proprietari marito e moglie di 74 e 68 anni sono finiti in ospedale per fortuna solo un'intossicazione per loro a Lanciano chiusa la scuola assaltata dai vandali primaria di Marcianese devastata con la schiuma degli estintori ieri e oggi stoppa le elezioni la dura condanna del sindaco e il secondo raid con le stesse modalità indagano i carabinieri gesto di teppistelli che non hanno rispetto per le istituzioni a Lanciano cimici in procura notizia evidentemente priva di fondamento a basto due nuovi magistrati a Palazzo di Giustizia e poi il magistrato Serena Rossi si presenta a Lanciano uffici funzionali non so se è quelli che ha trovato o quelli che vorrebbe no è quelli che ha trovato a vasto erosione servono fondi per i frangiflutti ad Ortona il teatro gestirà la compagnia dell'Alba a Teramo bilancio manca il numero legale passiamo alla politica comuni di Senti hanno scelto di non partecipare alla convocazione del consiglio fissata per ieri pomeriggio sindaco appeso a un filo sono rammaricato ma continuerò a lavorare fino all'ultimo per la città e vediamo sulla città come come viene affrontato l'argomento perché viene definita eccolo qua la pagina in oggetto una città presa in ostaggio dai dissidenti manca il numero legale per aprire il consiglio dedicato al bilancio tutto rinviato a martedì e c'è anche uno schema la maggioranza certa con 14 voti e le persone evidentemente i 6 dissidenti di maggioranza e le opposizioni che hanno 12 voti vedremo se ci saranno i numeri adesso passiamo però visto che siamo nella parte finale allo sport Pescara Palermo eccolo qua stasera Zeman respinge le critiche la squadra sta crescendo Boemo controcorrente voi giudicate solo il risultato ma io penso al gioco l'analisi del tecnico ci siamo espressi meglio contro Empoli e Brescia rispetto alle gare vinte contro Carpi e Parma tra poco lo sentiremo ma ovviamente con Tedino che sull'altro fronte lancia il rosa nero e sentiremo anche le parole di Bruno Tedino manteniamo il primato dice l'allenatore del Palermo troveremo un Pescara arrabbiato Zeman inimitabile siciliani privi di nove giocatori c'è coronato alle spalle del bomber Ilian Estoroschi questa è la probabile le probabili di questa sera Pescara con Fiorillo tra i pali linea 4 Zampano Bovo Coda e Mazzotta Valzania Brugman e Palazzi a centrocampo Benali Pettinari e Mancuso in avanti ovviamente il modulo non si tocca è il solito 4 e 3 3 e 5 2 3 e 5 1 e 1 per il Palermo Posavec tra i pali Cionec Struna e Ciminski in difesa Rispoli Murawski Jajalo Ciocev e Fiordilino a centrocampo e poi come avete sentito Coronado Extrapani che il Pescara conosce bene per averlo battuto nella finale playoff di due stagioni fa alle spalle di Ilia Nestoroschi ci andiamo ad ascoltare i due tecnici Zdenek Zeman prima e poi Bruno Tedino per parte a rosa nero li ascoltiamo No io non sono affatto preoccupato io penso che dobbiamo migliorare ho detto che dobbiamo migliorare la velocità di azione di giocare più verticale poi la squadra per me ha giocato ha giocato molto ha fatto ha fatto sette occasioni da gole non ne ha fatti poi purtroppo in fase difensiva c'è sempre qualcuno che sbaglia e poi si paga le ultime due partite che poi corrispondono a due sconfitte sono stati giocati molto meglio rispetto a quelle che abbiamo vinto lui ha fatto tante cose buone perché tanti giocatori che ha portato lui giocano a livello mondiale oggi non è che ha sbagliato sempre per me a parte Palermo Palermo è casa mia ho lavorato nove anni nella società Palermo c'ho la moglie di Palermo c'ho due figli che sono nati a Palermo l'antistadio intitolato a mio zio sono a casa io penso che quando si fa una squadra quando arrivano i giocatori poi se arrivano 42 è difficile però uno si fa immagine su che cosa vorrebbe fare e chi potrebbe servire in un ruolo che in un altro e io ce l'ho 11 che vorrei fare giocare dipende poi e da loro come si come apprendono il gioco che chiedo a loro e dallo stato fisico per quanto riguarda i giocatori che abbiamo a disposizione stanno facendo veramente tantissimo perché hanno una grande disponibilità hanno un grande spirito una grande abnegazione lo fanno soprattutto per per portare in alto quelli che sono i colori rosa nero perché sinceramente non vedo nessun ragazzo che si tira indietro mai per quanto riguarda Zeman Zeman è stato secondo me un grandissimo insegnante un grande maestro nel nel proporre un calcio propositivo ricco di emozioni ricco di giocate ricco di qualità ha sempre cercato ed è spesso riuscito a ricavare il massimo dai suoi giocatori da rilanciarli o di valutarli o di renderli al meglio e quindi parliamo di un'istituzione a livello a 360 gradi per quanto concerne il calcio non il calcio italiano il calcio e quindi io ne vado orgoglioso di poterlo incontrare di misurarmi anche se noi sia io che lui non è che possiamo far gol però possiamo mettere in pratica magari determinati tipi di idee lui sicuramente ha dimostrato di averne molte di più è sicuramente un allenatore che molti hanno cercato di copiare ma lui è unico e quindi questo lo ha reso sempre secondo me un artefice di un calcio spettacolare spettacolare Zeman andiamo sul messaggero emozione Palermo l'allenatore della città siciliana è casa mia ma devo vincere Pettinari confermato al centro dell'attacco stasera alle 20.30 Capone e Mancuso saranno gli esterni del tridente chi ha il capo cannoniere ha detto Zeman ieri riferendosi alla possibilità che possa giocare Gans chi ha il capo cannoniere ha detto Zeman non lo toglie proprio mai e dunque lasciando speranze maggiori a Pettinari rispetto a quanto non ne abbia lasciate a Gans Tedino Zeman inimitabile voglio in campo gente che sia affamata in basso per la Serie C Teramo Asta fa le prove di turnover Fratangelo in dubbio il giocatore si è fatto male durante l'allenamento contro il Sud Tirol al Bonolis servono ovviamente i tre punti e vedremo se ci sarà anche Fratangelo dall'altra parte in Serie D un concordato all'orizzonte per salvare l'Aquila posizione sempre delicata quella del Sodalizio Rosso Blu Avezzano lanciato verso la zona nobile tra tre giorni l'altro derby stavolta però con l'Aquila e sarà insomma un derby assolutamente da non perdere che vi racconteremo domenica anche noi con direttastati e con l'Abruzzo del pallone Lavastese terza in classifica il pareggio Blinda il terzo posto e Aragonesi lanciatissimi anche se domenica è arrivato mercoledì anzi è arrivato solo un pareggio Francavilla adesso è un'altra musica il pareggio con l'Avezzano ha evidenziato i progressi mister Iervese il gruppo ha acquisito la mentalità a Pineto Mazzocchetti uomo chiave della vittoria in basso per il volley Sieco bicchiere mezzo pieno sabato Club Italia da battere Pescara stasera in campo contro l'ostico Italservice chiudiamo con una notizia di basket perché come detto ieri sera c'è stato il derby al Palas Capriano tra Teramo e l'amatori Pescara derby senza storia Teramo si inchina a Pescara il posticipo al Palasca della giornata di campionato vede l'amatori sempre avanti Biancorossi battuti 58 a 76 andiamo a vedere anche rapidissimamente un po' il tabellino dei marcatori vedete 58 a 76 migliori tiratori migliori marcatori nella Teramo Basket Staffieri 12 punti La Gioia 10 punti vediamo invece nella squadra di Stefano Raiola 15 punti per Bini 14 per Drigo 13 per Bedetti 11 per Capitanelli 12 per Leonzi insomma capite da soli che molti più giocatori in doppia cifra sono quelli che sono andati a segno per l'amatori Pescara con questa notizia noi chiudiamo mattino 6 che torna ovviamente domani sempre puntuale alle ore 8 io vi ricordo l'appuntamento con la prima edizione del nostro telegiornale alle ore 14 e poi questa sera ovviamente a partire dalle ore 20 l'appuntamento con Diretta Stadio perché anche noi seguiremo da vicino come sapete bene Pescara-Palermo il pre-partita la partita il post-partita come sempre come ogni volta che scende in campo il Pescara è tutto io vi auguro una buona giornata Pescara-Palermo 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 Pescara-Palermo